Volete un'idea sfiziosa? Questi bastoncini di toffo in frigitrice d'aria super buoni, super crocanti. Tagliamo il toffo a bastoncini, io ho usato quello alle erbe. Li passiamo quindi nella farina, nell'uovo sbattuto e infine nel pangrattato. Ungiamo il cestello della frigitrice d'aria, mettiamo i bastoncini e un altro spruzzo d'olio. Li facciamo cuocere a 195 gradi per 15 minuti rigirandoli a metà cottura. Fateli anche voi e fateci sapere qui sotto nei commenti. E come avete visto sono facili e veloci da fare.